Una nottata trascorsa in ospedale al Perrino di Brindisi, una nottata non facile per Fedez arrivato al pronto soccorso con forti dolori addominali e vomito il 2 agosto attorno alle 22.30 in codice arancione. Il malore, a meno di un mese dal ricovero al Policlinico di Milano per un'emorragia interna, è stato reso noto dallo staff del cantante che sul profilo social ha fatto sapere che il 34enne era stato dimesso su sua richiesta dopo un prelievo di sangue e una terapia con anti dolorifici. Fedez ha voluto ringraziare i medici, gli infermieri e l'intero personale della struttura sanitaria Brindisina che si è preso cura di lui e lo ha fatto scrivendo un messaggio su Instagram. Ciao a tutti, intanto ci tengo a ringraziare lo staff del pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il rapper era atteso a Gallipoli per una serata e il suo secondo pensiero è andato a tutte le persone che lo aspettavano per l'evento. Dopo l'ultimo ricovero che mi ha costretto ad annullare alcune date, non vedevo l'ora di salire sul palco, ha aggiunto. Purtroppo durante il volo sono stato male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale. Speravo di essere dimesso per tempo, così non è stato. È stata una nottata intensa, ma ora sto meglio, ha scritto ancora Fedez. Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto, grazie per il supporto. Sono davvero rammaricato di non essere riuscito ad essere con voi anche questa volta, ha concluso Fedez. A distanza di qualche ora il cantante, sempre su Instagram, ha voluto tranquillizzare tutti. Visti i miei trascorsi, anche una cosa banale e meritevole di accertamenti approfonditi. Ed è quello che hanno fatto i medici del pronto soccorso del Perrino tenuto conto nella storia clinica del cantante, che a marzo 2022 è stato operato per la rimozione di un tumore al pancreas ed è stato ricoverato a settembre 2023 per due ulcere con emorragia interna.